È nata per caso, un ex studente tramite Facebook mi ha mandato un'iniziativa di non uno di meno che appunto vuole aiutare le scuole in questo momento difficile. Poi perché ho accettato? Non c'è nessun motivo razionale, io per la mia psicologia a volte sento che devo fare delle scelte. In quel momento lì, due secondi, ho sentito che dovevo partecipare a questa iniziativa. Nella mia scuola, nel liceo Bottoni ho fatto gli ultimi dieci anni prima di andare in pensione, quindi ho in un certo senso un legame con quella scuola e volevo dare il mio contributo in questo momento difficile. Tecnicamente non so ancora nulla, nel senso che devo parlare con la preside, credo di avere studenti del biennio perché lì c'è più bisogno e immagino di aiutare gli studenti in difficoltà, quindi fare un'opera di recupero. Avrei preferito che fosse stata una scelta privata, personale. È mia, non voglio essere un modello per altre persone. Un mio amico ha postato, un amico più famoso di me ha postato questa mia scelta, credendo di lodarmi, di farmi un piacere. C'è stato un dibattito, la maggior parte si è congratulata per l'impegno, una parte invece mi ha accusato di portare via lavoro ai giovani, uno mi ha dato anche del crumiro. Diciamo che queste critiche vengono da sinistra, ma non tengono conto della situazione, cioè la mancanza di insegnanti non viene sopperita da me, perché se io farò due ore alla settimana, non è che un disoccupato meridionale delle Calabria viene a Milano per fare due ore alla settimana, non potrebbe farcela. Quindi sono critiche delle numerose persone che non hanno idea di che cosa sia la scuola. Sarà molto, molto difficile. Conoscendo i colleghi, molti non saranno all'altezza. La maggior parte però ce la metterà tutta. Insegnare in quelle condizioni come insegnare a distanza è terribile. Se manca il rapporto umano, o se il rapporto umano è basato sulla paura, l'azione di insegnare non è una questione tecnica. Se fosse una questione tecnica è come imparare l'inglese sui dischi, e basta, insomma, su internet. È una questione umana. Quindi è in gioco il rapporto umano. Questa è la grossa sfida di tutto il corpo docente. Io ritengo che il mestiere di insegnante si basi soprattutto sul rapporto umano. Rapporto umano che si è interrotto da tre anni. Quindi riuscirò a recuperare questo rapporto con gli studenti che avranno 14-15 anni. Io potrei essere il loro nonno. Quindi neanche un... Io ho cominciato a insegnare che mi consideravano un po' il fratello maggiore. Adesso sono il nonno. Riuscirò... È un altro mondo quello degli studenti. Riuscirò a creare un collegamento. Questa per me è una sfida. Spero di non fallire, anche per gli studenti, oltre che per me. Non so cosa accadrà. Potrebbe essere una scuola che sarà chiusa per il lockdown, per il virus. Non lo so. Io sono 68 anni quasi. Quindi potrei essere... Cioè se io divento... Se dovessi diventare positivo al virus, io sono una persona che rischia. Rischio molto più io degli studenti. Quindi in un certo senso c'è questo rischio. Però, come dire... Tante persone hanno rischiato, no? E così... Come dire... Diciamo che prima di morire voglio... Così... Chiudere la vita in bellezza. Dire... Ho dato qualcosa al futuro. Perché i giovani sono il nostro futuro. Diciamo che i giovani sono il nostro futuro.